Continua il momento magico per la Sandro Abate, 48 ore da sogno per il club bianco-verde di Patron Melillo, coach Battista e capitano Massimo Abate. La vittoria di Mantova, la quinta su altrettante gare lontane dall'Erpinia. Pardon, la circola, il gol del capitano che ha fissato il punteggio sul 10-5 non è stato un gol come gli altri, ma un gol particolare. Una rete che ha consacrato nell'Olimpo del calcio a 5 Massimo in gol in tutte le categorie, in tutta la penisola e con la stessa maglia, quella del suo cuore. Massimo ha ancora voglia di continuare a portare per mano i suoi. Altro record, o se vogliamo definirlo così, l'esordio di coach Battista che ha trovato subito le risposte che cercava. Ha editato una panchina pesante, quella lasciata da Oranges, ma ha fatto subito scintire Lombardia con un calcio a 5 spettacolo. Ancora a Mantova un super pocherissimo grifato di Anluca, nessuno come lui in campionato. Segnare 5 gol in una sola partita non è da tutti. Ora è ad un passo dal comando della classifica marcatori con 11 reti. Insegue la vetta di Misael della Codormax Pescara e di Fortino del Rea Rieti che sono in vetta con 12 marcature. La Sandro Abbate infine si colora d'azzurro con le convocazioni di Molitierno e Mello. Per il postiere romano, classe 89 e nazionale del 2014, è una certezza la chiamata di coach Musti. La novità è rappresentata dalla convocazione per il centrale difensivo. Nel weekend del 2-3 dicembre i nazionali da Sandro Abbate saranno impegnati contro la Slovenia in due gare amichevoli. Le due partite si giocheranno la prima a Tri-Chi-Lal, il palasport della città di Lasco, la seconda alla Tabor Al di Maribor. Fischio d'inizio entrambe le partite alle ore 19. Complimenti a Zurri Irpini. Fischio d'inizio. Fischio d'inizio. Grazie.